quindi qualsiasi cosa succede adesso raga è qua è lui forse è qua che continua il capitolo 2 e quindi magari effettivamente ci vuole dare un messaggio del tipo attenzione fuori effettivamente c'è poppy playtime cioè tutte le uscite di questa fabbrica effettivamente se vedete conducono all'estero amici ciao allora io ho iniziato questo video come ben vedete e praticamente siamo anche noi nella fabbrica di poppy playtime con huggy huggy che ci spia ma oggi abbiamo le hack se riesco a muovermi allora è stra difficile perché io non so usare queste cose raga e c'è tipo stra difficile per me perché non so fare queste cose ma oggi in speciale andremo a cercare i motivi per cui è stato creato se mai troveremo dei misteri qua in giro di questo tipo allora questo ci farà capire il motivo per cui è stato creato huggy 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 stavo cercando di capire e di trovare qualche scritta strana effettivamente questo è più tre anni addirittura cioè praticamente gli anni per poter avere poppy praticamente sarebbero di tre e qua ci sono dei cartelloni evidentemente secondo me sarebbero tipo dei cartelloni pubblicitari allora è proprio strano devo dire perché è veramente super curioso come siano riusciti effettivamente a creare queste cose ed è bello poterlo spiare da fuori insomma poter capire tutti i segreti che ci sono da fuori allora effettivamente qua io non è che abbia trovato molte cose quello è il mitico huggy ciao huggy ciao batti il 5 amico allora so che tu sei un maledetto maiale che ci vuole ammazzare infatti so che più avanti potrebbe darsi che mi possa far fuori cosa è successo allora qua dobbiamo stare molto attenti perché qua si potrebbero nascondere nuovi segreti raga io sono stracurioso di vedere questi segreti ma voi se li conoscete per favore ditemi nei commenti perché così io posso andare ad esplorarli anche in video ovviamente soprattutto in video perché mica cioè nel senso voglio far vedere anche a voi le cose cioè nel senso altrimenti non cioè che è brutto da solo invece con voi è tutto dato che non ho amici con voi è molto più bello allora ma scusate un attimo ma che cos'è stava questa struttura è proprio ok qua si vede che è da fuori fatto però è brutto da fuori è proprio una fabbrica schifosa cioè poi non c'è nient'altro a parte la fabbrica vabbè questa è una stanza rossa raga una stanza totalmente rossa non so sicuramente qualcun altro l'avrà trovata io sono stracurioso perché voglio trovare dei misteri nuovi praticamente ovviamente non credo sia possibile questa cosa cioè magari è possibile però dico sarà molto difficile cercare di trovarli però mi raccomando cioè noi insieme magari possiamo farcela soprattutto se mi scrivete voi qualcosa nei commenti ne sarei grato cioè ve ne sarei grato ok qua c'è una mano volante che probabilmente sarà la mia facciamo così andiamo avanti qua c'è una porta che praticamente secondo me non porta da nessuna parte a parte una stanza molto verde buia e mamma che schifo no via 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 allora ho preso la chiave ora posso andare da questa parte ok perfetto andiamo qua e andiamo a prendere praticamente a schiacciare questa cosa oddio che spavento mi sono spaventato tantissimo allora guardate che io sono poco esperto di queste cose infatti se non capirò un cavolo dovrete aiutarmi nei commenti perché insomma potrebbe darsi che io esploda ma dunque cos'è che si è aperto qua si è aperto tecnicamente cos'è che si era aperto ma io non mi ricordo più niente che problemi ho io di me ma secondo me devo andare da un medico comunque quindi effettivamente lui ora è sparito chissà dove è andato effettivamente ora che ci penso perché se io vado qua se magari vado giù sotto sopra ma no sopra siamo andati ma non c'era niente c'era il la botola e cioè ci sarebbe da capire tutto questo mistero perché comunque cioè è veramente affascinante e fermi allora ho bloccato il coso in pausa ok cioè ho bloccato il gioco ora non si potrebbe più muovere assolutamente niente quindi qualsiasi cosa succede adesso raga è qua è lui vedete guardatelo eh cioè vabbè non so se qualcun altro l'aveva già fatto vedere perché io ripeto questo video magari lo sto facendo un po' più tardi però guardatelo è proprio lui cioè nel senso vabbè ok era abbastanza ovvio che fosse la sua mano questa perché sapete come si vede però effettivamente scusatemi eh lui qua a me sembra che non sia posizionato proprio in modo decente cioè ora non so se riuscite a vedere qualcosa però praticamente le sue gambe sono sotto il terreno il che magari è stato fatto appunto perché magari non avevano voglia di metterlo bene tanto si doveva vedere solamente la mano oppure per qualche altro motivo se io invece mi avvicino allora lui appena sparisce tecnicamente ecco ora ok è ancora qua si è ancora qua raga ok vedete cioè ha tolto la mano praticamente e però è ancora qua questo è effettivamente molto strano ritorniamo e qua cos'è che c'è scusatemi tanto perché qua effettivamente a parte allora scusatemi tanto ma no 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 scusatemi ma qua c'è un buio della madonna non so scherza allora voglio evitare di farvi vedere così tanto buio anche perché effettivamente cioè che schifo non voglio non voglio traumatizzarvi vabbè scherzo ovviamente sto scherzando e qualsiasi cosa stia facendo sono pazzo qua c'è una luce scusate un attimo mi avvicino a questa luce ma che cos'è raga è stracurioso allora praticamente vedo cioè è effettivamente una luce ora che ci penso no è una luce o cos'è non è una luce cosa caspita ah si no no invece è proprio una luce mi sono confuso scusatemi è una di quelle luci che probabilmente è messa a cavolo evidentemente non si sa perché non si sa per come però insomma l'hanno fatto a cavolo vabbè insomma io direi di di andare com'è che si faceva ad andare andiamo avanti sì c'è un buio io della madonna ma raga mi sono cagato addosso cerco di non cagarmi più addosso magari sarebbe anche il caso allora non devo nemmeno spaventarmi perché praticamente qua io posso stoppare appena arriva lui posso fare pum in pausa non si muove più niente nemmeno nemmeno la madonnina ok niente proprio cioè è proprio una cosa che un comando capito un comando magico un pulsante in realtà non è un comando c'è un po' un pulso io schiaccio e e non si fa ma scusate ho detto e non si adesso vedete sto schiacciando si muove più un cavolo va bene muoviti fai qualcosa fai partire sto cosa non mi interessa scusatemi ma io veramente non capisco come si gioca cioè nel senso non ho mai giocato dal vivo ho solamente visto dei video però sapete come a volte dai video ci si distrae un attimo magari si si pensa al cane che impazzisce per esempio non sto scherzando cioè il mio cane veramente impazzisce mentre io guardo i video vabbè e cosa ci posso fare ah e poi so che tecnicamente ci sono da mettere delle cassette a quanto ho capito consigliatemi allora so che voi siete bravi quindi se mi date dei consigli dato che io mi sono lasciato un po' indietro con questo gioco ve ne sarei veramente grato caspita ok questo andava preso evidentemente devo trovare ancora il giallo il giallo si nasconderà da qualche parte qui in giro me lo sento cioè vabbè per forza in realtà l'ho trovato amico mio non mi scappi più e non puoi più scapparmi brutto bugiardo e lo sapevo io è un bugiardo perché si era nascosto da me e mi voleva dire no duni sei stupido io lo sentivo parlare invece no non gli ho creduto semplicemente non gli ho creduto l'ho mandato anche a quel paese infatti infatti l'ho trovato e gli ho fatto vedere che era stupido e quindi adesso guardate qua è perfetto bene così amico mio adesso dammi il braccio meccanico robotizzato maialazzato o come caspita si chiama non lo so nemmeno muoviti però braccio meccanico perché mi sto già rompendo le scatole basta che non me lo tiri in testa te la butto lì guarda posso buttartela lì ecco me l'hai buttata tu guarda meno male che non me l'hai buttata vabbè lasciamo perdere facciamo finta che io non l'abbia mai detto ok bene perfetto guardate cosa sto facendo cioè sono veramente un maiale allora non ho capito nemmeno il perché sinceramente però allora devo dire questo gioco mi piace se volete che ci giochiamo anche un episodio praticamente così senza le hacks possiamo anche provarci però vi dico che faccio cagare perché io questo gioco non l'ho mai giocato ecco vediamo qua se effettivamente c'è qualcosa cioè allora qualche mistero da qualche parte mannaggia le palle ci dovrebbe essere scusate non volevo usare questo questa terminologia un po' particolare però volevo capire volevo trovare questo indizio ma non c'è niente che mi possa dire capi niente non ho nessun indizio niente di niente allora faccio così perché è la prima volta che ci gioco quindi effettivamente è un po' particolare come situazione quindi così giusto ok ha funzionato perfetto sono molto perspicace in questo momento allora più o meno per quanto io possa essere perspicace insomma andiamo avanti qua vedo tutto buio effettivamente qua anzi fermati 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 tutto buio andiamo avanti allora vediamo un attimo se c'è qualcosa raga mio dio mi sono cagato addosso pensavo fosse un viso di una bambola questa non sto scherzando allora vediamo qua se in questo tunnel così pericoloso e pauroso c'è qualcosa ma non sembra evidentemente sembrano dei semplici tunnel con all'esterno un beato ceppo di cazzo però scusate che io dovrei smetterla di utilizzare questa terminologia così particolare andiamo avanti passiamo oltre smetti di buttarmi le cose addosso io non sono la tua sguattera ok non sono nemmeno il tuo servo capito non sono nemmeno cioè nel senso sono una persona non sono una cosa che si può usare vabbè per fortuna direi anche allora ciao eeeh cosa devo fare ah giusto praticamente devo attivarlo no perché mi sono ricordato qualcosa dal video praticamente devo attivarlo quindi praticamente devo andare da questa parte dopo ci sono delle cose tirarlo ok lo sto tirando vedete sono bravo perché sto tirando le cose l'importante è saper tirare le cose faccio così allora io so che è un po' particolare come cosa ops ho usato la mano sbagliata guarda un po' allora faccio così dopodiché devo far così giusto dopodiché l'ho guardato abbastanza questo questa cosa quindi sto bene come funziona allora faccio così dopodiché così ok dopodiché così 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 perfetto vedete sono magico ok bene questa parte ve la sono ricordata però vediamo un attimo cosa c'è qua dietro il muro anzi non dietro questo muro ma andiamo magari a capire lì in fondo se c'è qualcosa perché effettivamente potrebbe esserci qualcosa di interessante tipo questo mi sembra abbastanza interessante sinceramente praticamente mi sembra una stanza evidentemente non completa perché probabilmente non la devono usare magari cioè io pensavo queste cose servono ok no qua praticamente esce poppy ok no perché pensavo praticamente queste cose potrebbero servire per fare tipo per tutte le altre cose del caso cioè tipo per il capitolo 2 però io sto cercando di capire che diamine è sto posto qua cioè raga ma ci rendiamo conto ma poi qua si può andare normalmente oppure si può andare solo con la telecamera spezzata sicuramente qua sotto si può andare semplicemente con la telecamera perché ovviamente non si può cadere qua sotto non credo proprio ed effettivamente qua sotto se io vado in uno di questi buchi vediamo un attimo vabbè portano all'esterno però peccato che c'è sempre all'esterno ma magari cioè magari potrebbe io ho pensato magari potrebbe anche essere una metafora no è tutto buio tutto buio via via saliamo sopra prima che succeda il casino che non si vede più di piatto c'è un po' di niente vabbè praticamente pensavo che potrebbe essere una metafora sul fatto che il fuori effettivamente sia il fuori dalla fabbrica e quindi magari c'è un esempio tipo che loro cercano di darti praticamente fuori dalla fabbrica sarebbe tipo fuori dove magari ci sono le persone che comprano che robe quindi magari effettivamente ci vuole dare un messaggio del tipo attenzione fuori effettivamente c'è poppy playtime cioè tutte le uscite di questa fabbrica effettivamente se vedete conducono all'esterno fuori effettivamente ora che ci penso se vado qua nella fabbrichetta in queste cose dove so che lui si arrabbia molto all'interno sto cercando di capire bene cosa c'è perché effettivamente queste cose sono molto inquietanti cioè come funzionano all'interno com'è che funziona la clonazione e tutto quanto funziona attraverso delle tecnologie un po' particolari a quanto vedo e ho visto delle luci vedete effettivamente potrebbe anche essere che ci sia qualcosa di tecnologicamente non umano tipo magari qualcosa di alieno che caspita ne so ha funzionato ok evidentemente si era un attimo baguzzato tutto quanto però adesso ce l'abbiamo fatta quindi ora praticamente devo far così e tecnicamente funziona tutto quanto giusto perfetto adesso escono le teste ora una volta che sarà completato il giocattolo devo portarlo da un'altra parte però adesso fra poco uscirà poppy questo qua e io posso metterlo in pausa tipo un zecchio negli occhi schifosa non guardarmi vai a quel paese sai ti metto le mani nelle pupille ah mi metto la mano là dentro mi piace farmi bruciare allora rimbalzo con i tuoi occhi ok non me ne frega niente adesso magari si arrabbia tipo mi ammazza però guardate quanto inquietante che ti segue con lo sguardo cioè guardate là raga cioè ma voi vi immaginate ma cioè io ti vi giuro la pelle d'occhio basta seguirmi raga ancora no 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 raga è inquietante no 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 io non cioè mi inquieto no non mi sto sentendo bene mi sono mi sto sentendo inquietato più che altro vabbè allora adesso si apre questa cosa giusto una volta che si apre questa cosa uscirà poppy da qua porca putt mannaggia a lui allora si è incaspitato ok vedete guardatelo l'ho messo in pausa allora è bruttino eh guardatelo da dentro è bruttino guardate che bruttino che sai tutto quanto cioè proprio fa così vi immaginate allora questo è il suo sederino che ce lo mostra vabbè non ce ne fregava ci ho capito che sia un po' egocentrico però insomma adesso non è che per qualsiasi cosa via tu schifoso maledizione che brutto guardate ragazzo cioè nel senso guardate che schifo ma ma io veramente cioè via 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 ok adesso devo andare ancora più avanti allora io so che qua è super terrorizzante ed è anche difficile infatti io guardate che ve lo sto dicendo io spengo il gioco e se mi spavento troppo cercherò di non spaventarmi so che qua davanti sta per arrivare infatti io adesso terrò sempre premuto il caro pulsante shift che mi dirà come andare avanti guardate che qua io mi impappino perché non so giocarci siccome è praticamente letteralmente impossibile e non so se state notando che io sto cercando di di parlare però praticamente vi sto parlando addosso sto dicendo tutte delle cavolate perché sto cercando di sdrammatizzare molto la mia paura che ho in questo momento perché vi giuro ho una paura che ne basta solo la metà e non sto affatto esagerando non sto affatto esagerando infatti io sto qua andando sempre più avanti e più avanti vado orca puzzola maiala fammi andare fammi andare fammi andare fammi andare vai via 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 scappa 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 maiale schifoso fotti vai a quel paese schifoso scurreggiate addosso cagati addosso con le scarpe bloccate da una scrofa ok adesso devo fare questa cosa ok forza scappa dai tira ok basta scendi via fotti scurci scusate devo dire un sacco di cose brutte a poppy perché vi giuro mi ha fatto cagare addosso mai più e vergognati allora io qua io non sono a fare la tua sorella la tua madre la tua puttana io ok non sono a fare tutte queste cose quindi vai a quel paese effettivamente è morta ora che ci penso perché ho guardato mille video ormai ho capito che muore però tecnicamente poi qua finisce il video però praticamente andando da questa parte quindi ok però qua allora tecnicamente ci dovrebbe essere una cassetta che mi mostra le cose che io però non so dove sia io però volevo vedere delle ultime cose perché scusatemi ma io seriamente non sto capendo allora andando sopra non c'è un biato c'è un po' di niente ok va bene però non riusciamo a scorgere più indizi di questa di questa fabbrica almeno io non sono riuscito cioè allora se voi avete delle delle cose che mi possano guidare attraverso questo gioco cioè se magari avete degli indizi se magari avete dei consigli per dirmi guarda dunis che devi fare questo perché così vedi quell'indizio quel segreto che magari potresti ricollegarlo a qualcos'altro cioè io guardate che sono disposto assolutamente a fare le cose che mi dite mi raccomando però ricordatevi sempre di commentare perché è importante ah questa è la cassetta scusate allora voglio vederla un attimo perché sono curioso cioè se c'è una cassetta lì per terra vuol dire che effettivamente serve a qualcosa batti il 5 amico effettivamente questa è una mano guarda guarda ho un ragno parla cosa sta dicendo adesso c'è un jumpscare non me ne frega più niente ciao me ne vado via pensavo di star per cadere invece non sono caduto perché sono un genio va bene io direi che ci dirigiamo verso la fine praticamente qua ci dice di andare indietro scappa effettivamente probabilmente da qua inizierà il nuovo capitolo a quanto ho capito giusto e andiamo forza non me ne frega più niente ormai dobbiamo finire questo gioco perché l'hanno finito tutti dobbiamo finire anche noi infatti no guarda che noi oggi l'abbiamo finito abbiamo usato i trucchi però nel senso questi trucchi non è che ci hanno aiutato non è che ho messo in pausa proprio i playtime mentre io mi potevo muovere con il mio personaggio no cioè potevo uscire dalla sua camera però alla fine non è che potevo fare altro quindi effettivamente l'abbiamo finito guardando determinate cose determinati indizi guardate che anche le pareti in questi giochi nascondono segreti ma io non sto scherzando tipo mi ricordo anche che su GTA è la stessa cosa che ci sono tipo dei misteri effettivamente dappertutto ci sono questi misteri in questa stanza per esempio cos'è che c'è all'esterno ecco qua effettivamente c'è qualcosa di cui non mi aspettavo forse qua può continuare con il capitolo 2 perché vedete qua praticamente a quanto ho capito qua c'è la bambola giustamente poi si va da questa parte e c'è un proseguo vedete forse è qua che continua il capitolo 2 potrebbe essere ora che ci penso poi vabbè qua ci ammazza perché insomma sei un po' incaspitata una signorina scusa e mi spiace di aver aperto la tua case non la apro più se non ti piace va bene mi ha fatto molto piacere fare questo video mi raccomando scrivetemi siete belli aspetta un attimo che devo spostare il microfono perché voglio vedere bene negli occhi tu e io ciao allora quindi mi raccomando commenta e iscriviti al canale ci vediamo al prossimo video ciao abbraccio ciao ciao